Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale! Oggi, sempre su Minecraft, continuiamo la costruzione. Dovremmo incominciare a fare il tetto e onestamente non so di che materiale farlo. Non ho la più palida idea di come fare il tetto. O teniamo un materiale scuro? Non lo so. Onestamente non lo so. Vediamo un po', vediamo un po'. Di pino è cresciuto, quindi vediamo se riusciamo a farlo con l'abete. Così cambiamo un po' tonalità e lo facciamo più scuro. Sperando che ce la facciamo. Vediamo un po'. Proviamo così, proviamo con l'abete. Però mi devi dare gli alboscelli perché se no è un casino andare a prendere l'altro. Non so dove lo abbiamo preso, l'abete qua. Dacci l'arbroscello quotidiano. Ah? No? Eh? No? Ce l'ha dato? Arbroscello di qua. Eccolo qua. Facciamo, dai. Dacci un altro. Eccolo qua. Bene, 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 bene. Mi piace, mi piace. Vai, vai. Continua a darci arboscelli che io li pianto subito così crescono. Allora, vediamo un attimo. Questo qui... Forse... Conviene tirarlo giù. Mi sa proprio di sì. È arrivato il momento di liberare un po' la zona. Davanti casa. Ce lo dà? Sì, ce n'è uno. Perfetto. Non c'è la farina d'ossa, però... Ci arrangiamo. Questo qui lo tiriamo giù. Togliamo anche questo di mezzo. Ci mangiamo una bella cotoletta. Colazione con la cotoletta. Ok. Via. Anche perché dobbiamo fare un po' di carbone. Quindi brucieremo un po' di legna per far del carbone. Se non sbaglio, se la bruciamo, diventa carbonella. Accogliamo tutti gli arboscelli. Ci verranno utili in seguito. Questo dovrebbe disfarsi tutto adesso. Se non ho dimenticato pezzi in giro. No, ok. Perfetto. Aia. Questa cesta, trasportarla sarà un casino. Incominciamo a spostare un po' di roba. Allora, cesta. Dobbiamo farne un paio. Se facciamo così. Allora, questa qua, qua. Ci mettiamo dentro quello che ci possiamo mettere. E ci portiamo via questa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milioni. Perfetto. Vai. Proprio precisi, precisi. Ci siamo, eh. Nel frattempo fa buio. E noi ci chiediamo in casa. Prendiamo le nostre ceste. Per adesso la posizioniamo. Qua. E ci andiamo a piazzare tutto quello che abbiamo preso. Oh la la. Questi ce li teniamo. Ah, guarda, il porcelo di abete, di abete, abete, abete. Abete, abete. Abete. Ce ne abbiamo un po' di roba. E cominciamo a fare una distinzione tra legno e quant'altro. Facciamo così. Qua ci mettiamo il legno. Questo non ci serve. E lo mettiamo qua. E qua ci mettiamo il resto. Siccome è buio, andiamo a dormire. Sotto le stelle. Ed è un buongiornissimo con questo bel sole che penetra dalla finestra. Con quell'albero che dà fastidio che dovremmo tirare giù, questi alberi, eh. Andiamo a raccogliere prima tutto questo. Ben di Dio. Soprattutto le mele. Oh la la. Come possiamo vedere, abbiamo devastato un'intera foresta. Uh, qua c'è già cresciuto. Questi crescono subito. Mi piace questa cosa. Anche perché ci dobbiamo fare il tetto con questo, quindi. Anche questo è cresciuto. Salto. Andiamo qua. E tiriamo giù. Questo. Perfetto. Mmm, vetri colorati. Vetri colorati. Onestamente vetri colorati non mi attirano tanto. Ci stavo pensando, stavo pensando a vetri colorati. Allora, questo qui è bellissimo come legno. Come potete vedere è bello scuro. Allora, o lo sostituiamo a quello, che diventa bello scuro, oppure ci facciamo il tetto. Il tetto. Mmm. Mi piace più grezzo questo qua, che ha tetto. Vediamo come viene. Facendo il tetto così. E non è male, sai? Non è assolutamente malaccio. E vediamo di incominciare a fare il tetto. Manca la terra. Manca la terra per poter fare l'impalcatura. Allora. Andiamo qua. E... Allora, siamo così. Questo si è attaccato qua, non si stacca. Perché non cade questo? Mi sono dimenticato un tronco, oppure perché vede questi di tronchi. Sembrerebbe che non ci sia niente qua, che blocchi... No. Ma meno. Io non vedo niente. Allora. Iniziamo. Se... Ne avremo bisogno tantissimo. Ecco. Incominciamo a sbagliare e a farli cadere. Già ne abbiamo pochi, in più li sbagliamo. Ok. Allora, risaliamo. E rifacciamo. Non lo so, eh. Sto facendo una prova. Vediamo come viene. Perché sono un po' indeciso. Dove è il letto? Ok. Fammi vedere un po' come viene visto da sotto. Qua raccogliamo tutto. Hmm. Sì. Non è male. Non è malvagio. Non è affatto male. Non è male. Non è male. Non è male. Bene. Sì. Dai. Continuiamo la nostra opera. Allora. Allora. Mi sono spaccato di brutto. Bello che ci avevo uscito... Ah no, era il control premuto. Sbagliato. Invece di shift ho premuto control. Ok. Di qua. Così. Perfetto. Poi continuiamo. Due. Tre. E questo. Non credo che ce la facciamo a farne un altro, ma ci proviamo. Almeno lo inizializziamo. Diciamo così. E sì. Qua manca... Se. Tutto sbagliato, eh. Tutto sbagliato. Dov'è il letto? Perfetto. No. È rimasto lì. Vabbè. Lo prendiamo così. E dobbiamo aspettare che crescono gli abeti, bro. Mmm. Togliamo questo. A questo punto direi di... Buttare giù questi due alberi qua. Perché ci fanno ombra. Sono belli, però ci fanno ombra. Allora. Vediamo questo. 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 E questo. Come è ramificato. Noi se riusciamo a camminare e arrivare all'altro. Ok. Si è rotta. Ce l'abbiamo l'altra. Guarda, guarda, questi pezzi qua. Non li avevo... Non li avevo visti. Ok. Quindi di qua. E ce ne andiamo di qua. Facciamo così. Togliamo questo. Questo qui. Poi questo. 1 e 2. Pala, 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 pala. Speriamo di non aver dimenticato nulla. E questo se ne va via tutto. Eccolo qua. Un altro bel pinotto. Ma questi non sono pini. Sono abeti. Sono abeti. Vabbè, è uguale. Cioè, pino e abete, no? È la stessa cosa. Non lo so. Se c'è differenza tra pino e abete. Penso di sì. Se no si chiamavano t2pino, no? O abete. Ok. Questo ce l'abbiamo pure. La bellezza di questi è che cresce velocemente. Queste sono foglie di intrusi. Ottimo, 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 ottimo. Siccome ci servono negli abeti, piantiamo gli abeti. Questo ce lo prendiamo. Questo bottino. Oh là là. E andiamo qua. Allora, abete. E facciamo le altre scale. No, perfette. 41. No, stavo per cadere. Sta diventando buio. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a piazzare almeno questa. No, perché è diventato già buio. E buonanotte. Perfetto. È di nuovo giorno, come per magia. E iniziamo il secondo lato. Non così, ma così. Ah, a mezzo gradino. Lo scende anche con lo shift. Mezzo blocco. Qui, facciamo questo qua. Facciamo pure quello, dai. Questo che ci siamo. Facciamo doppio qua. e iniziamo questo. Ci siamo quasi, eh? se non fosse per la mancanza di albero di alberi avevamo quasi finito. Allora. direi di lasciare uno spazio per entrare, così. vediamo, oh, oh, ce n'abbiamo altri due di alberi. Andiamo subito a prendere quegli altri due alberi, ma prima ci facciamo niente perché non c'ho le pietre. dove l'ho lasciate le pietre qua. Ci facciamo subito altre una e due. questi non cadono. Uno. 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 dobbiamo mettere il blocco per terra. Tutto per quello. No, al borcello di quercia non ci interessa. ma ci interessa questo, qua. Perfetto. Poi prendiamo anche questo. Se ce la facciamo con questi altri due alberi, magari. ok. Qui c'è la devastazione, raccogliamo tutto. Quella lì non è cresciuto. Ah, sì, è cresciuto uno. Buono, buono. E noi andiamo sempre più lenti, ci mangiamo le mele. Via. Allora, questo. Così. Così. 48. 52. Forse sono troppi? Boh. Vediamo. O forse pochi. Ma la sono vista brutta. Stavo per cadere. Quella. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ok. Ce l'andiamo di qua. Mi era sembrato di vedere qualcosa. Ah, sopra ci sono delle cose che bisognerebbe prendere. Beh, altre due file e abbiamo finito. Vabbè. Questo adesso lo sistemiamo. E... Tac. Sì, altre due file e abbiamo finito. Eh, ci ho provato. Ci ho provato. Allora... Ah no, ce l'abbiamo ancora. Sei. No, no. Perché sto andando via. Non lo so perché sono andato via. Allora. Uno. E' finito. Abeti, abeti, abeti ce l'abbiamo. Qua siamo sempre più in alto. Perfetto. Andiamo a prendere subito gli altri abeti. Questo è cresciuto. Perfetto. E lo ripiantiamo. Qui ci prendiamo il ben di dio. Andiamo anche qua che sicuramente c'è altra roba da prendere. Questo lo tiriamo giù. Questo... Facciamo fuori. E questo pure. Qua c'è roba? No. Non so perché gli squib muoiono i calamari così... Senza motivo. Vai. 38. 24. Bah. Vediamo se ce la facciamo. Ok. Mi si è bloccato il mouse di nuovo. Devo cambiare il mouse. Si era incastrato. Ma se riusciamo a passare dall'altra parte. Penso a farci male. E' morto il mouse. Eh. Scusate eh. Ma... Non so perché ma... Si era incastrato il mouse. Di nuovo. Mi sa che sta avendo problemi. Dimmi che ce la facciamo. Non fare la carogna che me ne manca poi uno o due. Tre. Uno. Due. E tre. Wow. Fico. Mi è piaciuta questa cosa qua. Adesso qui dobbiamo scendere. E scenderemo così. Grazie al letto. Ok. Problema mi sa che me ne serve qualcun altro di quello lì. Diabete. Ok. Quindi li lasciamo crescere. Poi li andiamo a prendere. Ok. Chiediamo la porta. Eccola lì. Signori. Ci manca un pezzo qui. No. Peccato. Vabbè comunque ne servono altri. Questa è la nostra casa. Direi che non è male. Sì. Sembra molti multicolori. Però ancora mancano le rifiniture. Lasciate un like. Un commento. Se vai iscrivetevi al canale. E come sempre. Siete i mitici. Alla prossima. Bye bye. Sì. 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 Sì.